Lascia un libro, prendi un libro è l'iniziativa messa in campo a bel passo per la divulgazione della lettura Mettere in circolo cultura attraverso la lettura di ogni genere di libro E questo è il cuore dell'iniziativa Lascia un libro, prendi un libro messa in campo a bel passo dal viaggiatore di professione come lui stesso ama definirsi Giuseppe Rapisarda Da dove nasce questa iniziativa? Allora nei miei numerosi viaggi all'estero ho visto in diversi posti, in diverse parti delle librerie Sia nei vari negozietti, magari nei posti più sperduti, sia nei parchi c'era sempre il suo armadietto con dentro i libri Allora mi sono chiesto perché non importare anche questa iniziativa a bel passo stesso Per cui diciamo io non mi sono inventato nulla, ho semplicemente voluto importare qualcosa che ho visto all'estero Però ho voluto dare una sorta di regolazione e metodo per questa condivisione dei libri All'estero usano lasciare questi libri anche nei parchi, nella panchina di un parco, nel tavolino di un bar, nel vagone di un treno e così via Questi libri lasciati in questo modo potrebbero andare anche persi Invece io ho voluto creare dei punti di condivisione, quindi con degli armadietti ben specifici Di modo che le persone possono, oltre a cambiare il proprio libro, possono donare i propri libri Ed averli sempre, diciamo così, seguirli e averli sempre sotto mano Ecco perché appunto la particolarità è lasciare un libro e prenderne un altro, mettere la cultura in circolo insomma Esattamente, mettere la cultura in circolo perché chi condivide un libro non condivide semplicemente un libro Ma condivide le emozioni che ha provato nel leggere quel libro, condivide il sapere Io non ho voluto portare le persone ai libri, ma ho voluto portare i libri alle persone Cioè ho voluto liberare i libri dai soliti armadi, dalle solite biblioteche E portarli nei posti dove abitualmente, quotidianamente entrano le persone Quindi noi annoveriamo tra i nostri punti di condivisione e raccolta libri Dei panifici, dei bar, qua adesso ci troviamo in una ferramenta Quindi dei luoghi magari non pensabili e non associabili di primo acchitto con un libro 12 al momento gli esercizi commerciali che hanno aderito all'iniziativa Da bar a negozi di ferramenta e sino a panifici e agenzie di viaggi Chi più ne ha più ne metta insomma Qual è il miglior posto per accettare questa iniziativa? Viaggio, libri, un minomio perfetto Ma sì, anche perché un libro comunque è un viaggio Cioè quando tu ti immergi nella lettura di un libro vai altrove Già fai un viaggio percorrendo tra le pagine, i luoghi, le persone, i sentimenti Tutte queste cose che sicuramente arricchiscono e non ti fanno sentire sola o solo Cioè secondo me, soprattutto agli adolescenti o ai ragazzi Bisognerebbe davvero fare capire quanta compagnia fa un libro Quanto è possibile Loro di solito si mettono nelle camerette, si chiudono Allora io direi chiudetevi in un libro Guardate cosa scoprirete Secondo noi, oltre a nutrire la pancia, è giusto anche nutrire la mente Quindi ci è piaciuto aderire a questa iniziativa per dare la possibilità di leggere e di nutrire la mente Come dicevo prima Ogni esercizio commerciale aderente ha riservato uno spazio dedicato ai libri Dove ogni amante della lettura può recarsi a prendere un buon testo La regola è una sola Per prenderne uno bisogna lasciarne un altro E senza la necessità di nominativi vari Nessun tipo di tracciabilità insomma Lei ha già lasciato e preso, imprestito due libri Come le è sembrata questa iniziativa? È sembrata una bellissima iniziativa Anche perché è un qualcosa che arricchisce E ripeto, a me che amo i classici Mi sprona ad essere più curiosa Quindi questo devo dire che è una bella cosa Quindi cosa ha letto qui in mano? Fratelli Grini e tutte le fiabe Ripeto, amo i classici E invece il primo libro? Il primo libro, Le impossibilità Dove parlava la differenza e le coinvirgenze che ci sono fra fede e scienza Che la fede e la scienza possono benissimo andare di pari passo Diciamo nella nostra società Soprattutto anche nell'attualità dove ci troviamo Quindi bello, bello Anche perché è sempre una scoperta Quando noi apriamo un libro e ci immergiamo dentro E sembra una scoperta questo Lascia un libro, prendi un libro Inizia insomma ad essere accolto positivamente Dai belpassesi a margine Va quindi detto che qualunque negozio Voglio aderire al progetto di divulgazione del libro e della cultura Può farlo contattando l'omonima pagina Facebook E per chi stesse pensando che tutto sia riferito solo a belpasso Si sbaglia, nessun limite L'iniziativa è aperta anche alle città limitrofe e non solo Questa iniziativa è stata lanciata da circa una settimana E i primi riscontri sono molto molto positivi Nel senso che ci sono già stati diversi libri che sono stati scambiati Altri che nel frattempo hanno anche donato dei libri E ci sono degli altri esercenti che ci hanno chiamato Perché vogliono aderire a questa iniziativa Sia dello stesso paese di belpasso Che da altri paesi d'altra realtà Che da altri paesi d'altra realtà